Un nuovo play alla Pepsi Juve Caserta ma non sarà destinato a curare la regia in campo, bensì a gestire quella dietro le quinte, quindi promozione, comunicazione e pubblicità. Arriva nella squadra del presidente Gervasio Francesco Marzano, 47 anni, da sempre tifoso della Juve Caserta. Nuovo play marketing, conosciamolo insieme. Qualcuno si è definito l'uomo giusto per la Juve Caserta, sei d'accordo? Sono d'accordo, il 6 luglio sono assolutamente d'accordo, spero di mantenere tutte le premesse e le responsabilità che mi hanno affidato in quanto ho ricevuto tanti complimenti, tante felicitazioni ma soprattutto abbiamo bisogno di un grossissimo in bocca al lupo. Primo impegno il lancio della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2011-2012 che sarà articolata sul piano grafico e dei contenuti su tecniche innovative e comunque con il coinvolgimento dei tifosi vecchi e nuovi. Ci anticipi qualcosa? Sì, dunque due settimane fa abbiamo fatto un casting fotografico al vecchio palazzetto. Non a caso al vecchio palazzetto perché diciamo cestisticamente siamo nati lì al vecchio palazzetto. Insomma è rimasto nel cuore di tutti noi tifosi, almeno quelli più vecchi. Abbiamo chiesto a una cinquantina di tifosi di venire a posare un vero e proprio studio fotografico per donare, regalare alla propria squadra del cuore la propria immagine. Abbiamo targettizzato e segmentato i tifosi per bambini, donne, professionisti e quelli dell'inferno bianco-nero, quelli tifosi più accesi e più calorosi. Obiettivo numero uno quindi coinvolgere il pubblico? L'obiettivo, se vuole sapere l'obiettivo, è numerico, sono i 3.500 abbonamenti. E ai 3.500 abbonamenti se raggiungiamo la famosa soglia dei 3.500, abbiamo parlato proprio stamattina col coach Sacripanti e regalerà a 10 tifosi under 35 un allenamento con la squadra del cuore.